Io so chi sei Alessandro Veronesi, conosco l'animo tuo e ti dico che ti adopererai e ti industrierai affinché tuo padre non muoia in un letto d'ospedale, bensì, secondo le sue volontà, nel suo, nel cuore della sua dimora, al primo piano della palazzina razionalista di via Bruno Bozzi 3, in Prato, da lui stesso progettato nel 1968, dove sei stato ragazzo. Questo è solo il primo capoverso, è uno dei pochi punti che Alessandro Veronesi in questo libro, in questa raccolta di racconti, Baci scagliati altrove, edita da Fandango qualche mese fa, un paio almeno, è uno dei pochi punti che inserisce l'autore. In realtà è il primo racconto, il racconto d'apertura, ed è un racconto a dir poco entusiasmante sia per il ritmo sia per l'intensità di scrittura, è veramente bello. Il tema è drammatico, come in altri libri, in altri racconti, e tra l'altro nei primi tre racconti che aprono questa raccolta di 13 brani, se non sbaglio. Al centro della vicenda, al centro del racconto di Veronesi, c'è il rapporto padre-figlio, però sempre visto e ribaltato un po' alla sua maniera. In questo racconto d'apertura si vede subito, diciamo, la grande profondità di scrittura, e che non scopriamo di certo oggi di Veronesi, nel parlare in seconda persona. In realtà tutti e tre, prendo questi primi tre racconti iniziali, possono essere dei brani da scuola di scrittura, semplicemente perché il primo si apre in seconda persona, non mette un capoverso, non mette un punto, e anzi parla appunto, si intitola profezia, e parla appunto di questa profezia della morte, della morte, dell'agonia del padre del narratore, che guarda caso si chiama Sandro Veronesi come nella realtà. Il secondo invece è un raccontino breve in terza persona, dove c'è più una vena più ironica, più anche surreale sotto certi aspetti, per quanto assolutamente narrata con evidenza di particolari nitidi e insomma con una chiarezza che è proprio appunto di questo scrittore. Il terzo invece è in prima persona, ed è un racconto molto molto bello, fatto con la voce sempre del figlio che ce l'ha contro il padre. Sono insomma tre modi di vedere questo rapporto scritti in tre modi differenti assolutamente da scuola di scrittura. Al di là di questo il piacere di questa raccolta di Veronesi è davvero tanto nel leggerlo, perché è un libro insomma che raccoglie un po' l'intensità che ha questo autore anche nelle prove più lunghe e narrative che ci ha dato, penso alla Forza del Passato, in Coscalmo, insomma in molti altri libri. E ovviamente chi non piace il modo, cioè il racconto, insomma basti citare Carvero Cortazar giusto per dare l'idea che anche in poche pagine si può davvero fulminare il lettore. In questo caso Veronesi ci riesce quasi sempre ed è veramente un libro che merita di essere letto.